Bene, preve del governo? Preve del governo è favorevole. Va bene, preve favorevole, metto in votazione la proposta di cordonamento per l'alzata di mano. Prego, 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 no, è alzata di mano, ordinamento alzata di mano. Chi l'approva alza la mano? È approvato. Bene, andiamo in votazione finale, il disegno legge 3.249 nel suo complesso. Ci sono richieste particolari, se lo prego, voto elettronico, ci ho appoggio. Va bene, si tengo aperto, va bene. Posso chiudere? No, posso chiudere? L'avete votato? Va bene, la votazione è chiusa. Presenti 275, votanti 273, maggioranza 137, fallevoli 231, contrari 33, astenuti 9 e senato a prova. Grazie. 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 Grazie.